Questa è la tomba di Cesare Grammatica, un partigiano caduto il 25 aprile del 1945, a soli 23 anni. 25 aprile 1945 è una data chiave per l'Italia che sancisce la fine della guerra, soprattutto della guerra civile, nel bene o nel male una data che porta poi l'Italia verso una nuova vita, verso la ricostruzione. 25 aprile 1945 però per molte persone è anche la data della fine della propria esistenza terrena, come tanti partigiani che sono qui sepolti e ricordati nel cimitero maggiore di Milano, proprio nel campo a loro dedicati. E per questo giovane ragazzo di 23 anni, Cesare Grammatica, morto proprio, fu ceduto il 25 aprile del 1945, a poche ore dall'abbandono definitivo dei tedeschi, dall'occupazione di Milano e della regione Lombardia. La storia di Cesare Grammatica mi è stata raccontata da uno di voi, uno di noi, da un utente che mi segue e che ha voluto condividere con me, tramite una mail, un ricordo della sua famiglia. Ecco, Michele Lamascritto mi ha parlato di Cesare che era suo zio, il fratello maggiore di suo padre che non era ancora nato in quel 25 aprile del 1945. Quindi prima di proseguire, non ho molta fiducia, però auspito e spero ecco che evitiate eccessivi insulti, in quanto stiamo parlando comunque di una storia familiare. Cesare Grammatica era un ragazzo affetto dalla polio e quindi per questo non arruolabile, che però nel momento in cui in Italia tanti, tanti italiani dovettero prendere una decisione da che parte stare, scesse di arruolarsi con i partigiani. Una storia che poteva concludersi come tante altre storie, con il lieto fine, ovvero con l'Italia liberata, con la conclusione di questa guerra. Purtroppo il lieto fine per Cesare Grammatica non ci fu, perché fu arrestato pochi giorni prima proprio della liberazione e fu cilato proprio il 25 aprile, proprio nel momento in cui i tedeschi ovviamente stavano lasciando la regione. Il dolore e la sofferenza per i familiari non terminò soltanto alla notizia della morte di Cesare, in quanto il corpo non fu subito trovato. Non fu facile dunque per la famiglia riuscire a ritrovare il corpo, che alla fine fu individuato in una fossa comune vicino a una cascina in Piemonte e fu proprio uno dei fratelli di Cesare che dopo un paio di bicchieri di grappa, così mi è stato detto nella mail da Michaela e ovviamente una bella dose di coraggio, si calò nella fossa per riconoscere il fratello Cesare che fu proprio riconosciuto tramite un foulard rosso che gli era stato donato dalla madre pochi mesi prima, una fossa in cui erano seppelliti altre 9 persone, tra cui un bambino di 9 anni. Cesare dunque muore a 23 anni, fu cilato e la sua storia è una storia che sicuramente lo accomuna a tanti altri partigiani, sepolti qui al cimitero di Milano e sepolti ricordati in tantissimi cimiteri di tutto il nostro paese. Morto per i valori che lo volevano portare verso la libertà, ma ancora una volta vi ribadisco nel mio canale, non è tanto prendere la posizione rossi e neri, ma ancora una volta, grazie anche alla testimonianza di Cesare Grammatica, è ricordare la terribile situazione di quel periodo in cui italiani erano costretti a combattere l'uno contro l'altro e quindi Cesare Grammatica, come tanti altri partigiani qui sepolti, non avranno l'opportunità di vedere un po' i frutti dei loro sogni, ovvero di un'Italia che nel corso dei decenni andrà a riprendersi sotto l'aspetto economico e comincerà a dialogare e a discutere. Per motivi sostanzialmente putili, non avrà l'opportunità dunque di vivere la sua vita come non l'hanno avuto tutti questi altri ragazzi. E questa è dunque la storia di Cesare Grammatica, come poteva essere la storia anche di Luigi Saronni, Orazio Maron, Pietro Foglio, Giovanni Gaburro e tutti gli altri partigiani qui sepolti nel cimitero di Milano. Una storia unica che, messe insieme alle storie di tutti questi ragazzi, fanno parte e hanno fatto parte di una pagina preziosa, dolorosa, ma fondamentale del nostro paese.